Condivido, eh! Vai, vai! Oii! Mitico Fonzino, un saluto per la stampa! Salutiamo a Salvatore! Un saluto all'organizzatore! Cosa la fai che è finito? Non professionale! Oh, e le letterine a dove stanno però? Voglio le letterine! Signora! Noto artigiano solo pachese... Tapposti! Cavaliere, un saluto per la stampa! Cavaliere, lei ha portato le castagne, vero? L'organizzatore, da dove vengono? Allora, adesso stiamo per procedere al gioco del mazzipiuso, però siccome il pubblico deve venire a questa parte della piazza per evitare problemi... E poi per fare rosso c'è questa cosa... Lui sta a facere, noi l'hanno... Ah, facciamo... Ah, quello là! Vabbè! Quanto è peggio, no? No, no! No, no! No, no! No, no! Con la braccia a terra, lui! Ah, con la braccia a terra! Sì, sì! Con tutti di quattro, il saluto è che... questo è un piccolo... non so non so, ma che sia un piccolo... Mario! Ma mamma, come sai bella? Eh, vai a casa bene! Eh, vai a casa bene... Qua caso... Mighele... Tu sei qua! Oh, no! Piole, per queste forze a me se non vengale... Maura! Maura, alza il cerchio, che lo voglio far vedere! allora dove sono i concorrenti segnali per la squadra sono messi cinque tiri come si chiama questo? Gianni per l'Aquilone e Mauro per il Cicciotti per l'altra squadra fallo vedere questo invece i sacchi lo tiro con la corda tiro la punta allora cinque tiri bisogna sollevare il tiro e mandarlo il più il tanto possibile Mario levate il logo vieni dietro facciamo prima una droga Mario Mauro è dietro facciamo prima una droga ma è andata a casa ma è andata a casa e' bravo bravo no ma ti rompe il telefono mi piace vai Andrea vai Andrea come è? vale fuori tutti buono fa questa prova ah non è andata a prova ah non è andata a prova ma fa 5 ma fa 5 ma fa 5 ma fa 5 che lo fa più lontano che lo do vuoto e' andata a prova un attimo prendiamo tutte le precauzioni necessarie come si chiama? toni, tu c'è quello con Mazzepico? no la fatua con i sacri sono pure dentro l'interno ma si chiama? come si chiama? Mazzepico si che le ammazza chi sono? che fai? no perchè ci hanno lasciato un campo Mauro girati fatti vedere ma che te ne ho portato? io la tengo appena vento non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è aspettiamo che la piazza sia libera per l'iniziale ragazzi un po' qui indietro tutti dietro ciccio scogliamiglio ok può andare con il primo tiro il primo lancio primo lancio è andato a vuoto secondo lancio anche terzo lancio scogliamiglio dietro vieni qua vieni qua vieni qua guardate dottoressco vorrei vieni qua quarto lancio ottimo lancio per la metriana rimane l'ultimo lancio che il tempo passi e ci guarda proprio casa e ci vediamo ciao Mario saluto a mio papà ciao un bacetto un bacetto un bacetto quinto lancio quindi l'ultimo lancio per Andrea tempo buco l'ultimo lancio macchini apposta quinto lancio il palo il palo Oh, sta palma là, oh, aspetta sta palma Madonna mia Un attimo Andato, ok Un applauso ad Andrea Che ha giocato bene Nonostante la prova Si è andata oltre più che bene Però è andato bene Adesso Gianni per l'Aquilone Con il primo lancio Secondo lancio Maura, maura più dietro, maura Bravo Terzo lancio Un po' più indietro però, un po' più indietro Passa, passa Pensate che è più indietro le persone Bravo Ok Terzo lancio è andato bene Ultimi due lanci Un attimo Aspetta Un attimo, un attimo, un attimo Vai Quarto lancio Quinto lancio adesso Quinto e ultimo lancio E' andato bene Bravo Bravo Gianni Applaudite un po' Adesso un attimo che Un applauso per Gianni Un attimo che giocherà Un attimo che giocherà Prima Mauro per E poi facciamo un po' di lettura Un po' di pubblico Un attimo Mauro Qui dietro ragazzi Qui dietro Qui dietro Qui dietro Mauro Vai Mauro Vai Mauro Chai quando hai MAUro per il primo lancio Bravo Bravo E andato bene il primo lancio è per MAUro La po' è dippedato Nel tempo Dai siamo assi Attendiamo Teniamo assi Cosa secondo lancio è andato bene anche il secondo è andato bene per il vetro il testo ancora è finito Andrea Mario guarda per quanto la segna si trova più lontano a quello quindi non lo segnavo questo quinto lancio quinto lancio fuori gara Fonzino vuol dire Fonzino fuori gara allora per questa gara mazio e Piuso primo c'è stato Andrea di Pinto secondo Mauro e terzo Gianni della Belonia adesso può provare un po' il pubblico ci prova Fonzino attenzione attenzione la tecnica è ottima un altro tiro per Fonzino che è un'altra grande fonsino Alla fine vuoi durare? E provo pure durare! Aspetta, aspetta! E tu dietro non è che parte la mazza? E voi dove si sta aggassando? Spacca la mazza! Ah, bravo! Ah, bravo! Ah, bravo! Ah, bravo! Ah, bravo! Aspetta, aspetta! Dicello che si un po' rubigliare per bene un viso Non mi faccio cirugirare, aspetta! Eh, ce la dice tu! Bravo! Raggi! Non ce la dice buono! Un luogui, un luogui! Ah, ha, 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 ha! Attenzione, mazza io! Ok, basta con la, se è chiuso Vabbè, solo Andreone Antonio! Antonio, anche una bambina vuole provare? Ok! Maura! Oh, vai Mauro! Ok, adesso facciamo... Attenzione! Attenzione che... Mi potreste fare male! Attenzione! Bravo! Facciamo uscire la macchina, attenzione! Facciamo uscire la macchina... Prova qua, Mauro! Qua, qua! Dai, piano piano, Mauro! Lo batti sulla punta e poi lo fai alzare! Vai! Vai, vai, prova, prova di nuovo, dai! Piano, mettilo dritto! Dai! Piano, poco a poco, sulla punta! Vai, l'ultima volta, dai! Vabbè! Passa, passa l'ultimo! Oh, no! Non lo provare ancora! Vai, vieni! Pure tu, poco, eh! Aspetta, aspetta, aspetta! Maura, fatti qui dietro! No, no! Guarda la corsa! Aspetta un attimo! Ehi! 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 Paticcio lo Puzzo! Bravo! Bravo! Colлегge Che bello!! Ok, adesso ci proveremo! A怎麼了 la tosse a peritope! Ehi! Ehi! Ok, eccokam!